Salve e benvenuti a questo mio nuovo video dedicato al 737 NGX della PMDG. Cominciamo quindi dal piano di volo. Il piano di volo come vedete l'ho già programmato, l'ho già preparato aiutandomi con il programma che io ho comprato, che ho in dotazione, che si chiama Fly Simulator Commander versione 9.2 e di cui io parlo spesso e bene. È un programma molto semplice, si impara molto velocemente, ci aiuta enormemente nella pianificazione dei nostri voli e ci dà la possibilità di vedere in tempo reale la nostra posizione durante il volo e anche la posizione di altri aerei, nel caso noi stessimo volando online. Come ho preparato il piano di volo non ve lo mostro dettagliatamente perché per questo ci sono dei tutorial appositi. Questa è la schermata grafica. Noi partiremo oggi da Verona a Villafranca e raggiungeremo Venezia Tessera, volando non in linea retta, ma facendo una grande... passando prima per un punto che si chiama Ferra, che corrisponde più o meno alla città di Ferrara. Poi faremo una grande virata di 90 gradi e a quel punto andremo, voleremo dritti fino a Venezia. Ho scelto questa rotta semplicemente per avere un po' più di tempo per spiegarvi alcune cose. Se fossimo andati dritti fino a Venezia avremmo avuto sieno 50 mila nautiche e non avremmo avuto neanche il tempo di bere un caffè. Quindi si tratta di un volo molto breve, ma ciò non ha molta importanza. Quello che è importante è che anche questo volo contiene tutto ciò molto di cui abbiamo bisogno per poter poi preparare un piano di volo molto molto più grande. La lunghezza non è importante. 300.000, 1000.000, 1500.000, le procedure saranno sempre, sempre le stesse. Guardiamo il piano di volo in modo più dettagliato. Ecco, questo è il nostro piano di volo. Qui vediamo il piano di volo in forma abbreviata. E qui invece in forma estesa, quindi con tutti i punti di riferimento, no? Il 737 volerà passando per tutti questi punti, chiamiamoli intersezioni, oppure NDA, NBA, VOA, eccetera, eccetera. Voleremo ad un'altitudine di 12.000 piedi, anche questa l'ho scelta a priori, così. E passeremo per una SID, cioè una procedura di decollo chiamata SID, standard, che si chiama FER 6K. E poi per entrare nella procedura di attarraggio, la STAR, che si chiama LATO 2B. Questi punti, fra poco, andremo a inserirli all'interno del computer di bordo del 737. Quindi adesso possiamo passare direttamente all'interno della cabina di pilotaggio del nostro 737. Trasformiamo in visione 2D. Eccoci qua. Forse vi siete accorti che non si sentono i rumori dei motori. Al momento ritengo opportuno che sia meglio che la registrazione della mia voce sia un po' più chiara. I rumori di sottofondo di solito coprono la voce di chi parla e questo può dare un po' ai nervi. Il sonoro lo metterò invece in fase finale, perché lì le strumentazioni ci comunicano con dei suoni, con degli avvisi, che è bene sentire. Dunque, devo sempre controllare quanto tempo ho a disposizione. Allora, cominciamo adesso ad aprire il computer di bordo. Con questo, cliccando questa parte del cockpit, ingrandiamo un pochino il computer di bordo, il CDU oppure FMC. E andiamo subito, la prima cosa da fare è quella di impostare la quantità di carburante, trattandosi di un volo molto breve, ci basterà scegliere un terzo, quindi circa 15.200 libri di carburante. E' più che sufficiente, possiamo scegliere la quantità di passeggeri, che influisce ovviamente sul peso dell'aereo, potremmo anche cambiarla, full, cioè serbatoi pieni, oppure serbatoi vuoti, oppure la funzione casuale. Direi che possiamo anche lasciare così, poi ciascuno può scegliere a seconda dei propri gusti. E a questo punto torniamo indietro e andiamo nella sezione FMC. Ecco, qui comincia la parte più importante della pianificazione del volo. Andiamo su Position Iniziale. Clicchiamo qui sotto, si accende, si illumina questo rettangolo verde. Questo è lo Scratch Pad, spero di averlo pronunciato bene. E qui inseriamo subito, con la tastiera del computer, il codice ICAO di Verona Villafranca, che andiamo ad inserire su Reference Highport. E ci dà anche le coordinate. Proseguiamo cliccando Route, riconfermiamo Villafranca su Origin, e inseriamo il codice ICAO di Venezia, e andiamo a copiarlo su Destination. La pista dalla quale decolliamo è la 04, anche se qui c'è scritto 05, e la inseriamo su Runway. A questo punto clicchiamo Depatch Arrival. Clicchiamo Depatch in corrispondenza di Verona Villafranca. Scegliamo la pista 04 come pista di decollo. E a questo punto dobbiamo inserire la SID che ci propone il comanda, Fer 6K. Se non la troviamo, come nel nostro caso, clicchiamo Fer 7K. Il 7 si riferisce, e anche il K, si riferiscono semplicemente alle versioni. Cioè le SID e le STAR, esattamente come nella realtà, vengono spesso modificate, aggiornate. E questi numeri si riferiscono appunto agli aggiornamenti. Questo significa che la banca dati del 737 è un po' più aggiornata rispetto alla banca dati del commander. Anche se in futuro, cioè già da adesso, malgrado ciò, vi consiglio di far più affidamento alla banca dati, cioè ai valori che ci dà il commander, di quelli del 737. Poi ripeto, ciascuno può scegliere a seconda dei propri gusti, ma io ho notato che i valori del commander sono sempre più attendibili. Comunque, in mancanza di questo, scegliamo Fer 7K e clicchiamo, e lo selezioniamo. Andiamo avanti, Depatch Arrival, questa volta andiamo su Aeroporto di Venezia, cioè l'arrivo. A Venezia sappiamo che la pista 04R è la pista sulla quale gli aerei atterrano e anche decollano, quindi selezioniamo la 04R, Romeo, e andiamo a cercare la star che ci ha consigliato il comanda, lato 2B. In questo caso la troviamo e la selezioniamo. Vediamo quanto tempo abbiamo, ok, ancora un pochino, finiamo di fare la rotta, andiamo avanti cliccando R6, andiamo avanti con la, questa è la prima pagina di 3, quindi continuiamo nella seconda pagina, qui abbiamo, a sinistra, questa serie di codici non deve presentare questi quadratini. I quadratini corrispondono, rappresentano delle discontinuità, cioè in questi punti il computer vuole sapere, il computer di bordo vuole sapere con sicurezza quali punti dobbiamo o vogliamo volare o toccare durante il volo. Siccome fino a Latus, vediamo un pochino, fino a Latus, l'unico punto in più potrebbe essere l'Aren, allora io inserisco l'Aren, qui nello scratch pad, anzi noi lo inseriamo, plurale maestatis per carità, e lo andiamo a copiare al posto della discontinuità, ecco la discontinuità a questo punto è sparita, cioè sparita, si è spostata, è stata coperta da l'Aren, però si è spostata più avanti, perché il computer continua a chiederci che cosa vogliamo ancora, da l'Aren fino a Latus. Ora, da l'Aren al Latus, come ci fa vedere il comanda, non c'è più niente, cioè l'Aren va direttamente a Latus, quindi noi clicchiamo Latus, che appare nello scratch pad, e lo copiamo al posto della discontinuità, e la discontinuità a questo punto è sparita. Qui più avanti vediamo una seconda discontinuità, che noi, vediamo un pochino cosa c'è dopo, C04R, lo clicchiamo, e lo andiamo a copiare sulla discontinuità. Bene, a questo punto le discontinuità sono anche sulla terza pagina, sono tutte coperte, possiamo attivare il nostro piano di volo, che in questo momento è diventato blu tratteggiato, e lo confermiamo con Execute. Con ciò il piano di volo in senso stretto è finito, però noi dobbiamo continuare a programmare il nostro computer di bordo, e vedremo nella seconda parte del tutorial cosa dobbiamo fare. A fra poco. Grazie a tutti.